Dopo il suo passaggio nel famoso programma televisivo, Uomini e Donne, Beatriz Dorsi sembra aver voltato pagina Conosciuta per il suo ruolo di protagonista durante il trono di Brando e Fricchian, Beatriz ha vissuto un'intensa esperienza che ha catturato l'attenzione del pubblico a partire da settembre 2023 Nonostante inizialmente le loro interazioni fossero limitate, negli ultimi momenti prima della scelta finale, Beatriz e Brando hanno avuto modo di conoscersi meglio, nonostante alcuni contrasti che più volte hanno spinto Beatriz a lasciare temporaneamente il programma In una svolta inaspettata, Brando ha scelto Raffaella Squatto, mostrando di avere solo affetto per Beatriz Nonostante la delusione, Beatriz ha dimostrato grande maturità, salutando Brando con lacrime agli occhi Questo, tuttavia, non ha segnato la fine del suo percorso televisivo, poiché, dopo alcune puntate, il tronista Daniele Pau dice l'ha invitata a scendere per corteggiarlo, un invito che lei ha declinato, mostrando di non essere interessata Uomini e donne Beatriz Dorsey trova un nuovo amore dopo Brando Scopri chi è il fidanzato Recentemente, sembrerebbe che Beatriz abbia ritrovato il sorriso accanto a una nuova persona Dopo la sua ultima apparizione in Uomini e donne, la sua popolarità è cresciuta notevolmente, specialmente sui social media, dove è seguita da migliaia di fan Essendo costantemente sotto l'occhio del pubblico, ogni suo movimento è attentamente osservato Li hanno visti più volte a Siena insieme, ha rivelato una fonte vicina alla situazione, suggerendo che Beatriz sia stata vista in compagnia di un giovane misterioso Le storie condivise sui loro profili social hanno confermato la loro presenza nello stesso luogo, sebbene non siano apparsi direttamente nelle immagini A questo, Dejanira Marzano, influencer ben nota nel mondo di, Uomini e donne, ha commentato Visto che si è fidanzata non penso abbia bisogno del trono Beatriz Dorsey ora vive un nuovo capitolo della sua vita, con un nuovo amore che promette nuove avventure Resta da vedere come si evolverà questa nuova relazione e quale impatto avrà sul suo futuro, sia personale che professionale Nel frattempo, i suoi fan rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti, sempre pronti a sostenerla in ogni sua nuova tappa